All'ultima di andata arriva al Tomolini Martinsicuro il nereto di Mister De Feulis che deve fare a meno degli infortunati pagliuca della penna e Zetti la squadra di Di Fabio invece a caccia della prima vittoria casalinga nonostante gli innumerevoli problemi societari inizia benissimo il Martinsicuro, prima Ciuti non trova nessuno al centro dell'area poi fa tutto da solo con un bel sinistro che sfiora il palo alla sinistra di Giuseppe risponde al minuto 11 il nereto con l'ex di turno Sorci che si ora la porta difesa da Cannella si fa male Moretti al suo posto, Leone, bella giocata di tacco illuminante di Chiacchiarelli per Calderaro altro neo arrivo in casa nereto, il suo sinistro è facile preda di Cannella spara alto alla mezz'ora Antonacci da posizione favorevole ma la partita è viva capovolcimento di fronte, Pizzi serve Ciafrae, rientra sul sinistro, conclusione alta inizio ripresa ancora Martinsicuro, Pizzi a 2x2 con Di Giuseppe, diagonale largo il gol arriva al sesto minuto, si accentra Calvaresi, poi serve Ciafrae che si gira in un fazzoletto e fredda di Giuseppe per la rete del vantaggio, bellissimo l'abbraccio tra Emanuele Ciafrae, classe 97 e mister Di Fabio il nereto vuole reagire dai piedi di Chiacchiarelli, bell'assist per Calderaro che non aggancia ancora Chiacchiarelli, punizione, calciata centro area, grandi proteste dei rosso-blu per credo dei tocchi di mano che l'arbitro Ameli di Teramo non rileva, le immagini non chiariscono netto invece il fallo di Calvaresi su uno scatenato Calderaro, messo giù, calcio di rigore Chiacchiarelli sulla battuta, gol, conclusione potente Cannella era rimasto centrale ma il nereto perviene al pari Martinsicuro si rituffa in attacco con Palladini che sfiora di testa il gol del 2-1 poi bell'azione di Farinelli per Ciuti, salva tutto Mirko Tarquini siamo all'ottantanovesimo, calcio d'angolo battuto da Chiacchiarelli, respinta di Cannella poi un beffardo pallonetto di Leone, inganna Cannella e il nereto si porta in vantaggio clamorosamente la squadra di De Feudis rimonta questa partita non c'è più tempo per le speranze del Martinsicuro, finisce così bellissimo il gesto nel finale di Giuseppe che accompagna lo sfortunato Cannella voglio essere qui a rappresentare una situazione che mi sento come società di doverla dire questi ragazzi stanno lottando all'inizio campionato, la squadra è molto giovane, molto corta perché con le difficoltà economiche che ci sono poi in settimana questi ragazzi sono stati avvicinati, sono stati convocati e gli è stato detto loro che purtroppo da adesso in poi non avranno nessun tipo di rimborso neanche rimborso spese per la benzina un grosso abbraccio a questi ragazzi che in tanti rimarranno, magari qualcuno in settimana troverà altra collocazione come è giusto che sia però ci hanno dato una lezione a tutti il calcio è questo, il calcio deve essere questo un calcio pulito fatto di passione, di voglia e di impegno veramente abbiamo, scusatemelo, i giocatori e i tifosi più belli del mondo sì, diciamo che rispetto alle altre due partite oggi un passo indietro per quanto riguarda sia il gioco sia la determinazione ma nel calcio quando devi vincere la partita è sempre difficile quindi sapevamo che quando siamo venuti qua se avessimo vinto non avevamo fatto niente e se avessimo fatto qualche altro risultato ne avrebbero parlato tutti però siccome alla fine siamo stati bravi siamo stati pure fortunati a vincere la partita c'è da fare un applauso a tutti quanti